Grazie. Grazie a tutti. Tenete conto anche come in maniera completamente diversa la Russia continua a essere oggi uno degli aghi della bilancia degli equilibri internazionali e mentre parlavamo di questa cosa qui, di come appunto potevamo immaginare di mettere su questa sezione importante, non dico che abbiamo costruito tutta questa sezione immaginando appunto che Ezio Mauro sarebbe potuto essere dei nostri, ma quasi. La prima persona appunto a cui pensavamo era appunto soltanto una speranza perché poi dovevamo chiederglielo era se appunto Ezio Mauro avesse voluto fare una lezione sui cent'anni della rivoluzione d'ottobre. Io appunto lo ringrazio per averci detto di sì, come ringrazio anche il quotidiano della Repubblica per esserci stato vicino. E questa sarà appunto come vedete lì, i due treni della rivoluzione, l'Ienin e lo zar. Perché appunto cento anni fa due treni appunto corrono in parallelo o in direzioni divergenti a seconda di come la vogliate con linguaggio figurato e immaginare per direzioni opposte. A bordo di un treno c'è l'ultimo zar delle russie che esce appunto dalla storia e ci entra invece con il ruenza il treno che porta appunto Lenin, che riporta Lenin in Russia. E quindi io darei il benvenuto a Ezio Mauro, oltre a ringraziarlo. Grazie, grazie davvero. Ci sono due treni che attraversano la Russia a un mese di distanza, cent'anni fa. E mentre corrono nella campagna immobile e nell'inverno che sta finendo, aprono e chiudono il secolo col fumo delle loro locomotive. Sono due viaggi diversamente tormentati, ugualmente ostinati, fatalmente indirizzati all'appuntamento comune con una storia grandiosa e terribile del Novecento, che cambieranno per sempre. Mentre tagliano la neve e il ghiaccio con i vagoni pieni di gente, ma in realtà ognuno con un solo vero passeggero. Sul primo treno, circondato dai gentiluomini della sua corte, Nikolai Aleksandrovich Romanov, imperatore di tutte le Russie, l'ultimo czar che sta scendendo dal trono tricentenario della sua dinastia per entrare nella tragedia finale. Sull'altro, scortato dai suoi compagni, Vladimir Ilyich Ulyanov, conosciuto come Lenin, il primo bolshevico di Russia che sta per salire al potere, prendendo la guida di una rivoluzione scoppiata nel suo paese senza di lui, che è in esilio da 17 anni. E la scena universale, ma profondamente russa, del 1917, l'anno del ferro e del fuoco, con due rivoluzioni, una febbraio, una ottobre, un'abdicazione, una città teatro magica, tragica, sonnambula, come Pietrogrado, che raccoglierà in sé una reggia di campagna, la fame, la guerra, il gelo, un popolo in piazza e la bandiera rossa alzata infine sul palazzo d'inverno, deviando il corso del secolo per più di 70 anni. Fino a quando quella stessa bandiera, ma con falce e martello, verrà mai nata dalla cupola del Cremlino, il 25 dicembre del 1991, con la fine dell'Unione Sovietica. In realtà la storia del 1917 comincia a dicembre dell'anno prima, il 16, la notte di un sabato, quando nella città elettrica e sovraeccitata dal sentimento oscuro della fine e dal miraggio sospeso di ciò che stava per accadere, si radunano tutti gli spettri del caos. Scelgono il cortile esterno del palazzo del principe Yusupov, sulle rive della Moica, dove oggi tra gli alberi ci sono i giochi per bambini del Diecki Sad, l'asilo. Qui alle due di notte si spalancò la porta sulla scala chiocciola che saliva dal seminterrato e con un grido d'animale inseguito dalla morte si lanciò fuori barcollando Grigori Yefimovic Rasputin, il monaco contadino, lo Starek flagellante, il santo diavolo. Soprattutto l'uomo che aveva tra le dita, come ripeteva negli ultimi mesi, l'impero russo. Incantatore, guaritore, mediatore divino, Rasputin si è impadronito della nevrastenia mistica della zarina Aleksandra Fiodorovna, che nell'ansia di dare all'imperatore un erede maschio dopo quattro femmine, si era affidata a chiarovegenti scalzi, profetesse straccione, sante bestemiatrici, medici tibetani, occultisti cristiani, idioti beati. E adesso aveva consegnato al monaco contadino l'unica speranza di guarigione del figlio, lo zarievice Alexei, a cui non si perdonava di aver trasmesso l'emofilia della sua famiglia, una malattia allora incurabile. Poco per volta Rasputin allarga le sue divinazioni alle persone di corte, alle nomine pubbliche, poi alla politica estera, quindi alla diplomazia, alla guerra, agli affari di Stato. Minaccia, profetizza, promette e Pietro Grado mormora che lui è l'ombra del trono, l'onnipotente in terra, lo zar sopra lo zar. Lo starecca tira suppliche e preghiere da chi cerca una raccomandazione di Stato. Invidia per il suo potere, maldicenze per la vita dissoluta, pettegolezzi per la sua influenza sulla zarina, odio dalle alte gerarchie imperiali messe fuori gioco dalla sua mano santa protesa costantemente sulle vicende della Russia. Finché due membri della famiglia imperiale, il principe conte Felix Yusupov e il granduca Dmitry Pavlovich, insieme con il deputato Periskevici, il medico Lazowert e l'ufficiale di cavalleria Sukhotin, organizzano un complotto per eliminarlo. Con la promessa di un convegno con Irina, la moglie del principe, probabilmente la donna più bella di Pietro Burgo, lo invitano nel sotterraneo del palazzo Yusupov, dove hanno preparato un banchetto con due calici di madera avvelenato e un vassoio di petifuri infarciti di cianuro di potassio in polvere. Quando Rasputin si trascina vacillando nel cortile, ha già bevuto un liquore mortale, ha mangiato i pasticcini, è imbottito di veleno e ha una pallottola nel costato, perché il principe Yusupov gli ha sparato in petto da due passi, incredulo nel vederlo immune agli intrugli mortali, ogni minuto più terrorizzato dalle leggende stregonesche che lo circondano. E ancora adesso, dopo essere caduto a terra, ecco che Rasputin si rialza, quasi fosse immortale, si avventa sulla porta, esce fuori, mentre Yusupov furla, tutti accorrono, Periskevici spara due colpi mancando il bersaglio, finché il Granduca, l'unico che sapeva maneggiare davvero un'arma, lo centra alla schiena e alla testa, abbattendolo nella neve, dove oggi, cent'anni dopo, ho trovato un mazzo di garofani rossi in memoria, imbiancati dalla nevicata di dicembre. Lo getteranno dal ponte Petroschi, nella luce ancora oggi fiocca dei lampioni, scavando un buco nel ghiaccio e nella storia della Russia. Quel delitto è infatti l'antecedente di ogni cosa, perché è una predizione, un'evocazione, una rappresentazione. È una vendetta e una ribellione, ma anche un esercizio mistico, una specie di colpo di Stato, un sacrificio politico che segna la storia popolare del secolo. Qualcosa che dura. Mentre cercavo nel bosco di Betulle il posto dove è stato bruciato il cadavere del Santo Diavolo, è passato un carro trainato da due buoi, con un contadino che si è tolto il cappello, unendo devozione a superstizione, e si è fatto tre volte il segno della croce. Lui sapeva. Il Santo Diavolo era lì, cent'anni dopo, ancora presente nel profondo dell'anima russa. Ma con lo rogo finale del corpo di Rasputin, brucia la residua autorità imperiale, si dissolve nel fumo dei soprusi, del sospetto, delle calunie, il legame mistico tra la corona e il popolo. Tutto è pronto per la rivoluzione. Manca solo l'iscra, la scintilla. La troveranno le ragazze col fazzoletto del lavoro in testa e le vecchie operaie della filatura di cotone Krasnayanit, filo rosso, nel gelo dei 20 gradi sotto zero del 23 febbraio, un giovedì. Se si attraversa lo stanzone d'ingresso e si entra oggi nel cortile della vecchia fabbrica, i fumi e il vapore scaricati sull'asfalto sembrano avvolgere il secolo e confonderlo. Allora, molte di loro avevano passato la notte in coda nel buio, davanti ai negozi vuoti, nella paura di non trovare nulla da mangiare. Con le voci che dichiaravano finite anche le patate e nessuno sapeva se sarebbe ricomparso lo zucchero. Mentre il burro saliva 4-3 rubli al chilo vicino al giardino botanico, uno sciacallo era stato sgozzato sulla Ligovskaya perché vendeva un litro di petrolio a 5 rubli, il pane nero di segale che prima costava 17 copecchi al chilo era comparso improvvisamente per poche ore solo nel quartiere Vasilevski, carissimo, per poi sparire subito da tutta la città. Fame? Freddo? Mariti e figli al fronte in una guerra che aveva mobilitato 12 milioni di uomini per perdere 1.800.000 in un solo anno? Sfinimento? Avvilimento? Rabbia? Quel mattino le donne che portano il peso del lavoro, della famiglia e del cibo si ricordano che il 23 febbraio del calendario russo corrisponde all'8 marzo del calendario occidentale, il giorno della loro festa rovesciata in disgrazia. Dopo la coda e la notte inutile guardano la borsa del non si sa mai vuota. Decidono che non ne possono più, staccano gli impianti, chiamano fuori dai cancelli gli uomini dell'officina Putilov che da settimane chiedono in vano un aumento di salario, girano l'angolo e quando spuntano sul prospect Sansonieski non sanno che proprio lì, a pochi metri da dove oggi c'è la concessionaria Bentley, si stanno affacciando sulla prima ora della rivoluzione. Pensavano di arrivare sul prospect Nevsky per sfilare con la loro protesta davanti ai negozi di lusso e ai palazzi principeschi, salire fino alla cattedrale di Kazan per dire addio e allo zar che volevano il pane. Ma dovunque per strada si aggiungono gli studenti, gli operai delle fonderie di Viborg senza lavoro per la serrata, le madri di famiglia che reclamano cibo, i passanti infuriati con gli speculatori, i curiosi. Quando arrivano in centro trovano il ponte Liteini chiuso con le barriere dei faraoni, i poliziotti schierati con la baionetta innestata. Soprattutto vedono i cosacchi, le truppe zariste scelte per ogni repressione, alte sui loro cavalli del Don, col berretto nero in pelle d'agnello e le cartucciere minacciose cucita tra colla sui caftani rossi. La sorte di un impero durato 300 anni resta sospesa per un lungo momento tra il compiersi e il disfarsi e questa sospensione della storia poteva venire solo su un ponte e nella città protesa anch'essa come un ponte tra Mosca e l'Europa. Il corteo si muove, suona la tromba militare, ma nonostante l'ordine i cosacchi non caricano, muovono i cavalli al passo tra la folla ma non calano i frustini sulle donne che alzano per proteggersi gli scialli sulla testa. Così il corteo avanza, arriva fino alla Duma e davanti al Parlamento si ferma, quasi come se la rivoluzione sapesse cosa cercava prima ancora di essere battezzata e riconosciuta. Non ci sono in quel momento due organizzazioni di fronte, l'esercito della borghesia e dell'aristocrazia da una parte e la classe operaia dall'altra, ma due pezzi di popolo, uno senza più appartenenza, l'esercito, e l'altro ancora senza ideologia, il popolo. Le donne hanno deciso da sole di scioperare, scavalcando i partiti rivoluzionari che inseguiranno la rivolta invece di guidarla, e i soldati sono in gran parte giovani allievi senza un addestramento antisommossa, ma con una gran paura di finire al fronte. La provvidenza fa il resto. Il mattino dopo, il 24, è un venerdì pieno di sole e gli operai non entrano nemmeno nelle officine, fanno assemblee dovunque, si mettono in marcia in 150.000, davanti al teatro Marinsky, dove pochi giorni prima era risuonato per l'ultima volta l'inno imperiale, ora cantano la Marsigliese, che fa il suo ingresso in Russia, la terra del potere assoluto. I ponti sono di nuovo bloccati, ma le mappe militari non prevedono che uomini e donne aggirino il ponte, scendano sul letto della neva gelata, camminino sul fiume per radunarsi davanti alla stazione, coi primi cartelli politici, basta col governo e addirittura viva la Repubblica. La rivoluzione arriva sul ghiaccio. Incredibilmente l'imperatore non crede alla febbre che brucia la capitale, anche se intorno a lui tutto vacilla. 16 granducchi pensano un golpe militare, i rapporti di polizia sono sempre più allarmati, il presidente della Duma, Rozianco, porta l'ultima supplica nella regia di Zarco e Selò. Bisogna cambiare tutto, persone e sistemi di governo, è urgentissimo, guai a rimandare, ma cade nel vuoto. Non passeranno tre settimane che scoprirà una rivoluzione tale da spazzare via ogni cosa, sono le ultime parole di Rozianco a Nicolai II, e voi non potrete più regnare. Ma come se fosse il sovrano impalpabile, di una dimensione parallela, lo Zar parte per il gran quartiere generale di Mogiliob, lasciando una capitale che sta bruciando l'impero. Hai un aspetto così stanco, così esaurito, Dio ti ha mandato una croce veramente terribile, dice il biglietto di sua moglie Alex, che troverà in treno. Fa sentire il tuo pugno, l'amore non basta, devono imparare a temerti, mio piccolo sole. È il 23 febbraio, quel giovedì fatale, e il diario dello Zar testimonia la distanza non solo fisica, ma emotiva, culturale, politica, dall'epicentro del cataclisma. È stata una fredda giornata di sole. Solo il giorno dopo Nicolai saprà della rivolta, derubricata in un telegramma della Zarina. Mio preziosissimo amore, ieri ci sono stati dei disordini, dei poveri diavoli hanno saltato un forno del pane, sono stati chiamati i cosacchi. Ancora un giorno, un nuovo telegramma. Sono solo provocazioni, teppisti, ragazzini che corrono gridando di non avere pane per creare agitazione. Tutto passerà e tornerà la calma. Quel giorno, sabato 25, a Peter, i disordini mutano in rivoluzione, i ragazzini diventano insorti, i poveri diavoli si accorgono che possono conquistare il potere e incredibilmente lo vogliono. Siamo davanti a una sollevazione popolare, dice il governatore della città, Balk. Arrivano i bolshevichi e i social rivoluzionari, gli slogan e i cartelli dei 240.000 dimostranti cambiano di tono. No alla guerra, abbasso l'autocrazia, via lo zar. Presto la città paralizzata diventa puro teatro di quel che accadrà. A mezzogiorno, davanti alla cattedrale di Kazan, la polizia apre il fuoco. La folla risponde lanciando pezzi di ghiaccio, bastoni, bottiglie. Al ponte il capo della polizia, Salfiv, spinge il cavallo a caricare la massa, ma lo gettano a terra, lo colpiscono alla testa, gli sparano al petto. I cosacchi guardano senza intervenire. Gli uomini parlano con loro calandosi il cappello, li chiamano fratelli, le donne urlano di togliere le baionette dai fucili. Sul Gastini Gor, dove una coda del corteo sta saltando i negozi, un drappello di dragoni spara e abbatte tredici persone. In piazza Snameskaya c'è la svolta. Quando la polizia a cavallo punta le pistole, una sciabolata taglia di netto la testa a un faraone. I cosacchi sono passati con gli insorti, la sommossa è ormai rivoluzione. Nella notte un telegramma dello zar ordina di soffocare la rivolta entro domani. Ma domani è domenica, il 26, e l'unica cosa che il ministro dell'interno protopopov sa fare è portare un'icona sacra alla Duma, chiedendo aiuto al cielo. È un cielo indifferente. La polizia prima dell'alba ha provato a arrestare cento attivisti, ma gli operai di Viborg, il quartiere delle fabbriche, hanno ormai in mano la città. Quando la folla avanza, vede picchetti e blindati ovunque, grappoli di mitragliatrici sulle scalinate e agli incroci. È chiaro che lo scontro ormai è militare. I gendarmi aprono il fuoco in tre punti, ci sono almeno 40 morti e decine di feriti. Ma l'istinto porta la folla davanti alle caserme dei reggimenti che hanno sparato, il Pavlosky, il Volinsky. In migliaia urlano verso le finestre tra il suono delle ambulanze di una città impazzita, mentre sul quarto giorno scende una notte inverosimile, con i gran principi e la borghesia che riempiono il teatro Marinsky per la prima di Mascarade, il ballo in maschera di Lermontov, dove in scena si mette a morte l'adorata nobiltà imperiale, che dai palchi applaude senza accorgersi che la profezia è in musica della sua fine, avvolta dal buio di una piazza deserta e livida. All'alba le caserme si ammutinano, per primo il reggimento Pavlosky, poi il Litovsky e il Piro Brazhensky, saccheggiano l'armeria, portano fucili e pistole Browning agli insorti, mentre gli allievi del Volinsky uccidono il comandante. Salta l'arsenale, escono 40.000 fucili, si spara dovunque, in strada per aria, dalle finestre contro i cecchini sui campanili, bruciano il tribunale e la sede della polizia segreta. Sul palazzo Iusupov, dove era cominciato tutto, sale la prima bandiera rossa. Diventata rivoluzione, la rivolta quasi chiede di essere guidata e al suo quinto giorno cerca il cuore politico della Russia. Lo trova, esangue e moribondo, nel palazzo favoloso della Duma, che apparteneva al principe Potjomkin, gran favorito di Caterina II. Ciò che resta della Duma sta boccheggiando qui, incapace di tutto. Partono gli ultimi inutili telegrammi del presidente Lozar. La città in mano all'anarchia, prego il Dio perché la responsabilità non ricada sul sovrano. È giunta l'ora estrema in cui si decide il destino della patria e della dinastia. Nell'ala grande del palazzo, finalmente il Consiglio degli Anziani fa nascere un comitato provvisorio con pieni poteri, ebrione timoroso di un primo governo non scelto dallo czar. E quando due dirigenti menshevichi si fanno dare le chiavi delle stanze 12 e 13 per riunire i deputati del blocco progressista, nasce nella notte in quelle stanze il comitato esecutivo del soviet operaio di Pietro Grado. Per un testa coda della storia, così, il soviet prende forma in un palazzo simbolo dell'assolutismo, dove il principe si mostrò la grande festa dell'aprile 1791 col vestito ricoperto di diamanti e una coafior talmente ricca e addobbata che veniva sorretta per tutta la sera dall'aiutante di campo. Adesso nella gigantesca sala Caterina c'è di tutto, soldati, armi, viveri, munizioni, medicinali, cappotti, bombe a mano, scarpe, mitragliatrici, anche, e non si sa perché, una macchina da cucire. Nello stesso palazzo si conteggiano due poteri. Il soviet, che controlla la guarnigione e chiede obbedienza a tutto l'esercito, cosciente della sua autorità rivoluzionaria crescente, e la Duma, che ha in mano il governo, la rete ferroviaria, quella del telegrafo, ma sente declinare la sua potestà parlamentare. È qui che, in una confusione indescrivibile, arriva infine la notizia che anche il villaggio imperiale di Zarco e Selò si è schierato con la rivoluzione e che la bandiera dello Zar è stata ammainata dal palazzo d'inverno. Al suo posto è salito un drappo rosso tra gli applausi e gli spari. Questa notizia che rovescia al secolo e cambierà il mondo corre attraverso la Russia e l'Europa per raggiungere le Lenin e Nicolai II, farli salire su quei due treni che li devono portare in scena per l'atto finale. Eccolo. L'ultima reggia dell'ultimo Zar, nell'ultima notte, è quella carrozza salotto al centro del treno imperiale, fermo nel freddo e nel buio del primo giorno di marzo 1917 sul binario di Pskov, dove giunge alla sua stazione finale la storia di una dinastia che regnava da 300 anni. L'imperatore di Russia è in viaggio dalle 5 del mattino dell'altro ieri, comandante in capo dell'esercito al terzo anno di una guerra disastrosa, era nella sua Stavka, il gran quartiere generale a Mogiliov, dove riceveva notizie sempre più allarmanti da Pietro Grado. Quando lunedì un ufficiale cosacco gli ha portato il rapporto sui reparti dell'esercito, incredibilmente scesi in piazza coi dimostranti, persino il fedelissimo reggimento Piero Brezhensky, che ha sempre avuto la sacra corona nelle sue insegne, ha dato l'ordine di partire subito per la residenza imperiale di Zarco e Selò, dove era la sua famiglia. I ragazzi avevano la rosolia, tutti a letto. Alex, l'imperatrice, era preoccupata per lui, solo e lontano. «Tutto ci avverso», scrive la zarina in una lettera disperata al marito, portata per 274 chilometri da un corriere a cavallo, e gli avvenimenti si sviluppano con una velocità folgorante. La luce di due lampade è accesa nel vagone letto della corona. Binari diverti, stazione poco sicure, bande in movimento, hanno consigliato al battaglione ferroviario un percorso alternativo per la sicurezza del sovrano e del seguito, che viaggia su un altro convoglio, il treno B. È un tragitto dall'impero al caos. Alle stazioni, dove i governatori locali aspettavano sempre lo zar per salutarlo con un inchino, adesso i ferrovieri non vogliono farlo proseguire, lo deviano da una destinazione all'altra, e Conte Fredericks, ministro dell'Imperial Casa, gli racconta che è colpa di un ponte malandato e pericoloso. Infine si decide di cercare la protezione dello Stato Maggiore del fronte settentrionale a Pskov, comandato dal generale Ruski. Adesso l'imperatore guarda dal vetro gelato la vecchia stazione, coi binari che sembrano puntare infiniti verso la distesa di una Russia immobile, e non sa che questa sarà la sua ultima tappa reale, dopo 23 anni di trono. Fuori qualcuno ha acceso cinque fuochi sulla piattaforma. Il riverbero rosso si mescola con la seta verde che ricopre le pareti del vagone. Gli ricorda il color malva del salotto dell'imperatrice nel Palazzo Alexandre, i mazzi enormi di Lillà nella sala d'angolo al Palazzo d'Inverno, dove prima del ballo sfilavano maresciali di corte, ciambellani decorati con la gran croce d'oro, guardi a cavallo con l'aquila su colbacco, lanceri in cremisi e usseri con gli alamari dorati davanti alla grande porta da cui sarebbe stata annunciata sua maestà imperiale. Tutto questo finiva sul binario morto di una ferrovia che portava chissà dove nella notte russa e un vagone quattro volte più piccolo del salotto di Palissandro dove normalmente faceva colazione. Un divano, due poltrone, una sedia e una scrivania. Sopra la penna con cui tra poche ore sottoscriverà l'atto di abdicazione, firmando Nicolai II, per grazia di Dio, autocrate di tutte le russie. Su quel treno finiva anche una tirannia, come la chiamavano i bolscevichi, certamente un potere assoluto, sordo e chiuso da tre secoli su se stesso. Una dinastia che sposava con l'autocrazia più cieca, la vocazione imperiale della Russia, un regno riluttante con un sovrano renitente fin dal primo giorno, spaventato dall'idea di una responsabilità cui suo padre, Alessandro III, non l'aveva preparato e tuttavia convinto di essere strumento sacro di una missione divina. Finiva l'angoscia di una biografia reale terrorizzata da se stessa, dall'autoprofezia di Sventura. Sono nato nel giorno di Giobbe. Ai segni nefasti che hanno accompagnato il regno, come la catena dell'ordine di Sant'Andrea che scivola a terra, proprio mentre suonano tutte insieme le campane delle 101 chiese di Mosca, quando Nicolae sta per porsi in capo la corona. O come le porte chiuse del Ministero della Trinità, quando arrivano in visita i giovani nuovi sovrani, quasi che il beato Serghiei, il santo più venerato di Russia, non li volesse accogliere. Suggestione e realtà si uniscono nella tragedia pubblica, quando nella festa rituale dell'incoronazione, alla distribuzione di dolci, birra, pampini, pepato, la folla si accalca calpestandosi, soffocandosi e incredibilmente i sovrani aprono con una quadriglia la festa in loro onore dell'ambasciatore francese, mentre la città conta 1.282 morti e più di 10.000 feriti. Nove anni dopo si arriva la Domenica di Sangue, con le truppe che sparano alla folla portata dal Pope Gapon davanti al Palazzo d'Inverno, non per una ribellione, ma per una supplica al sovrano, con le sacre icone e i ritratti dello zar. Il massacro lascerà mille morti nella neve e Gapon lancia l'anatema davanti al sangue. Sia maledetto dal popolo lo zar e tutta la sua genia di serpenti. Dio mio, Dio mio, scriverà Nicolai nel suo diario. Che dolore, che pena. Chiuso nella timidezza invulnerabile del guscio autocratico, lo zar rifugia i riti di corte, rifugiandosi nell'intesa profonda con Alex, l'imperatrice, testimoniata da quei biglietti con una coroncina dorata in alto, su cui la zarina scriverà al marito 653 lettere. Mio amato, Angelo Caro, dice l'ultima, firmata al 4 marzo in due copie, affidate per sicurezza a due cosacchi della scorta, nascoste entrambe sotto la sella. Ho paura di pensare a quello che stai sopportando. È una cosa che mi rende pazza. Lei adesso è sola nel palazzo di Zarcoisselo, con Bebi, come in famiglia chiamavano l'erede di 13 anni, che chiede notizie del padre e si sente rispondere. Dio solo cosa sta accadendo, perché i telegrammi tornano indietro con una scritta in blu, destinatario sconosciuto. Dalle finestre vede che persino le guardie d'onore dello zar se ne vanno portando via le bandiere. Sente gli spari e il canto della marsigliese. Capisce di essere persa nel vuoto di un impero che si sta dissolvendo, davanti a un trono ormai spoglio, con lo zar lontano che sta diventando semplice cittadino, e lo zarevice malato che non sarà mai re dopo essere stato atteso e invocato per dieci anni tra medici, santoni, incantesimi, suppliche e il tedeum finale. A quello stesso dio si rivolge Nicolai nel treno fermo sul binario imperiale, con le linee del telefono bloccate e i rapporti da bandiera bianca che arrivano da Pietro Grado, ormai in mano ai ribelli, come Mosca. Mentre il suo mondo sta crollando, l'autocrate firma sul vagone un manifesto con le concessioni costituzionali che non ha mai voluto accettare prima. Ma il documento non uscirà mai dal treno. Al generale Ruschi che lo annuncia, il presidente della Duma risponde che ormai è troppo tardi. Voi non vi rendete conto di quello che sta succedendo, una delle rivoluzioni più terribili che siano mai scoppiate. Quello che pensate è insufficiente. La questione dinastica esige una soluzione immediata. Il capo di Stato Maggiore Alexeyev fa una mossa in più, decisiva, e una sorta di golpe telegrafico chiede ai comandanti delle flotte di tutti i fronti, il caucasico, il rumeno, l'occidentale, un parere sull'abdicazione dello zar per salvaguardare il futuro della Russia. Nel primo pomeriggio del 2 marzo arrivano le risposte. Tutti i generali e gli ammiragli partono dal giuramento di fedeltà all'imperatore, per chiedergli subito dopo di abbandonare il trono. Sono le due quando Ruschi batte i tacchi davanti al sovrano, consigliandogli dispacci militari e una bozza preparata da Alexeyev con l'atto che passa la corona allo zarievici sotto la reggenza del fratello di Nicolai, Mikhail. La profanazione è avvenuta, manca soltanto la risposta. O ha consentito? Scriverà semplicemente allo zar nel suo diario la sera. Ma adesso, nel momento della scelta, tutti lo guardano in silenzio mentre fuma in piedi davanti alla finestra del vagone. Pensa ai doveri di fronte all'esercito, ricorda il monito della zarina, tu sei l'autocrate senza il quale la Russia non può esistere. Si convince che lui può rinunciare essere zar, ma lo zar non può rinunciare a essere autocrate. Infine si volta di scatto facendosi il segno della croce. Ho preso la mia decisione, chiedo a tutti di servire sinceramente e lealmente mio figlio. Il conte Fredericks, che è anche capo della guardia di palazzo, può far arrestare i generali, ma lo zar lo ferma con un gesto della mano. È inutile. Ma la rivoluzione vuole essere presente a questo passaggio della storia. Bisogna aspettare un altro treno, che sta portando due rappresentanti della Duma fino a Pskov. Il sovrano dovrà firmare l'abdicazione nelle loro mani. Passano sei ore sulla piattaforma di quella stazione, a Pskov, dove la storia ha deciso che tutto doveva compiersi. È lo spazio di tempo in cui affiora l'angoscia. Dal treno B il sovrano fa chiamare il dottor Fiodorov, medico di corte, si chiude con lui nel vagone e affronta il segreto di stato della malattia emofiliaca dello zarievici. Alexei ha tredici anni. In quale condizioni riuscirà a regnare? Quali rischi potrà correre? Cosa si può fare per proteggerlo mentre si prepara a salire al trono? Non bisogna illudersi, risponde il medico. Il male dell'erede è incurabile. Avrà sempre bisogno di precauzioni straordinarie, ma il problema è che probabilmente suo padre e sua madre saranno esiliati e lui dovrà provvedere da solo a se stesso. Il destino del padre e del figlio si toccano nell'ultimo giorno, all'ultima fermata, nel buio serale di Pskov. È notte nel gelo del binario, tra i fuochi accesi dai servitori di corte, quando Nicolai scende dal treno con la cerchesca, il mantello grigio dei cosacchi, per fare gli ultimi passi d'azzar mentre arrivano le luci di una locomotiva con una sola carrozza. Tende la mano ai due uomini della Duma, li porta nel suo salotto, si siede accanto al tavolino accostato alla parete e li ascolta mentre con imbarazzo chiedono che rinunce al trono, intrecciando le mani, tormentando il cappello, l'interrompe. Ho deciso di abdicare. Fino alle tre di oggi pensavo di farlo in favore di mio figlio, poi ho cambiato idea a favore di mio fratello Mikhail. Spero, signori, che comprenderete i sentimenti di un padre. Firmò il testo d'attilo scritto su un modulo del telegrafo, concluse chiedendo al Signore Iddio di aiutare la Russia. Firmò anche il decreto di nomina del principe Lvov a capo del governo provvisorio, così che il primo governo rivoluzionario nasce con l'ultima firma dello zar. Poi la carrozza si chiuse sul sovrano decaduto, rimasto infine solo, preso in mano il diario, attorno a me tradimento, inganno e viltà. Attraverso il telegrafo le due notizie che ribaltavano in Russia il Novecento appena iniziato, la rivoluzione e l'abdicazione, attraversarono i confini e la guerra, rimbalzarono in Europa e arrivarono finalmente a Zurigo. Vladimir Ilic, per tutti Lenin, stava finendo il pranzo nella stanza Uso Cucina, al 14 di Spiegelgasse, che affittava 28 franchi al mese senza stufa, da Erkammerer il calzolaio. Sua moglie Nadia lavava i piatti alle due del pomeriggio, quando coi tre colpi in codice alla porta si precipitò nella stanza Mieczislav Bromsky, un giovane compagno polacco. Ripetevo urlando che in Russia era scoppiata la rivoluzione. Diceva che la notizia era certa, non stava fermo. Fecero mille domande, non potevano crederci, ma poi corsero giù per l'acciottolato in discesa della vecchia città, verso il lungo lago, dove erano esposti i giornali svizzeri. Sotto la pioggia videro dispacci da Mosca e da Pietrogrado nella bacheca del Neue Zurkzeitung, in piazza Bellevue. Era vero, era accaduto. Lenin, che aveva appena detto a Enes Armand noi vecchi forse non vedremo le battaglie decisive, adesso si trovava davanti una rivoluzione classica per il pane e per la libertà, proprio in Russia. E lui doveva venire a saperlo così, per caso, in ritardo e da un giornale. Credete di impazzire, non dormiva più la notte, alla moglie sembrava un lupo in gabbia, ma quelli col pello argentato, che non si rassegnano alla prigionia. La storia scoppiava e Vladimir Ilic era a 2.500 km di distanza, con una guerra in mezzo e un esilio dove ha pensato la rivolta in Russia ogni giorno, dove ha scisso il partito socialdemocratico separandosi dai mencevichi di Martov, dove ha dovuto difendere le rapine per il partito e gli espropri dei bolshevichi caucasici, dove mangia zuppa al latte perché mancano i soldi, dove la sua rivoluzione sta chiusa ogni mercoledì sera in una saletta del caffè Zoom Adler, quando si riunisce ad ascoltarlo un gruppetto di socialisti svizzeri e polacchi, mentre le conferenze bolsheviche si fanno la domenica al club degli orologiai. Deve tornare ogni costo. La sua propaganda disfattista contro la guerra predatoria degli imperialisti spaventa francesi e inglesi che gli negano il transito per il timore che il suo rientro in Russia faccia crescere la tentazione di una pace separata con la Germania. Allora progetta di attraversare il territorio tedesco con un falso passaporto svedese, fingendosi sordo muto. Esplora l'aiuto di un contrabbandiere, pensa di camuffarsi con una parrucca in Olanda, si informa sui costi di un aereo privato, poi si convince che bisogna negoziare e rientro con la Germania perché non c'è altra via. Ma i soldati russi dal 1914 stavano combattendo e morendo sul fronte tedesco. Un'intesa di Lenin con Berlino avrebbe avuto il sapore del tradimento, poteva distruggerlo. Per ragioni opposte alla diffidenza di Londra e Parigi la Germania era interessata a riportare Lenin in Russia, sperando di aumentare il disordine politico e soffiare sul caos col disfattismo rivoluzionario. Quando a Monaco era nato il giornale Iskra, i primi numeri preparati da Lenin e da Martov erano confezionati in casa di un giovane giornalista che si firmava Parvus. Adesso, nel marzo 1917, Parvus rispuntava nella vita di Lenin, sotto l'identità di un miliardario socialista che aveva fatto i soldi chissà come in Medio Oriente, ambiguo, intrigante, giocatore, capace di usare il potere politico a Berlino e di esserne usato. I due hanno un amico comune, Jakob Fustenberg, in contatto col sottosegretario agli esteri Zimmerman e col bolcevico Zinoviev, che da Berna negozia segretamente per conto di Lenin, chiamandone la trattativa sempre prudentemente zio. Bisogna informare il Kaiser che una potenziale bomba rivoluzionaria viaggerà per una settimana su un treno tedesco, attraversando da nord a sud tutta la Germania. Il 26 marzo Guglielmo approva, ma il rischio è tutto di Lenin. Tornerà in patria grazie alla Germania, come un collaborazionista infiltrato in Russia dal nemico, sospettato di alto tradimento. Ilic, come lo chiama la moglie, è consapevole dell'azzardo capitale. Cerca di avere la copertura scritta dai personaggi più influenti del socialismo europeo, ma raccoglie solo firme minori. Poi chiede a Berlino di viaggiare su una sorta di treno extraterritoriale, impermeabile a ogni contatto con i tedeschi durante il tragitto in Germania, senza controlli di polizia alla frontiera, senza passeggeri oltre ai rivoluzionari, senza incontri alle stazioni. È il treno piombato che corre nella leggenda da un secolo. In realtà è una carrozza speciale che li aspetta nella piccola stazione tedesca di Gottmadingen, subito dopo il confine svizzero. Un solo vagone verde scuro con due toilette ai due lati, cinque scompartimenti di terza classe dove sistemeranno gli scapoli e tre settori di seconda classe con i sedili imbottiti per le famiglie e le donne, i due bambini, Stefan di nove anni e Robert di quattro. Due ufficiali tedeschi, il luogotenente von Bühring e il capitano von Planetz, occuparono l'ultimo scompartimento di terza classe e il socialista svizzero Fritz Platten tracciò un semicerchio col gesso sul pavimento del corridoio davanti a loro, una linea che impediva il contatto e che solo lui, il mediatore tra rivoluzionari e tedeschi, poteva attraversare. Era la piombatura che Lenin aveva richiesto insieme con la chiusura chiave delle porte, ma questo non bastò per evitare i fischi e le urla contro di lui la partenza da Zurigo, anticipo della tempesta russa prossima ventura, traditore, spia, venduto al Kaiser. A Lenin e a Nadia Krupskaya, che avevano lasciato un baule di vestiti nel bagagliaio portando con loro una scatola di libri e una di giornali dopo aver bruciato le lettere, venne riservato uno scompartimento in modo che Illich potesse lavorare scrivendo Kino sul suo quaderno nero. Prima aveva distribuito delle tessere numerate per chi doveva andare in bagno e un secondo contrassegno per i fumatori che dovevano raggiungere la toilette obbligatoriamente, visto che Lenin non sopportava il fumo. Andò anche due volte nel corridoio a chiedere di abbassare la voce e un'altra volta fu il capitano Von Planetz che ordinò a Platten di far cessare il canto della marsigliese che saliva dalla terza classe con insolenza rivoluzionaria. Nel piccolo treno c'erano venti uomini, dieci donne, bolshevichi come Zinovio con la moglie Zina, socialisti che arrivavano da Losanna come Goberman, da Clarence come Inés Arman che conosceva Illich dal 1910, aveva con lui un legame speciale, politico e sentimentale e aveva vissuto praticamente accanto lui e Nadia fino al 1915. La rivoluzionaria a cui Lenin scriveva quasi tutti i giorni, l'unica a cui dava del tu, mentre riservava il voi a tutti gli altri. Singen, Wallingen, Stoccarda, Francoforte, poi Berlino col filo spinato della guerra che si vede dal finestrino e il treno che si ferma per venti ore alla stazione, ore riempite da leggende che portano una sola domanda. Qualcuno ha incontrato Lenin a nome del governo tedesco nello spazio politico extraterritoriale del treno? Non ci sono evidenze. E certo soltanto che Vladimir Illich proprio in quei momenti scrive sul suo quaderno le tesi d'aprile con cui cortocircuiterà a Pietroburgo la rivoluzione borghese in rivoluzione proletaria. Ed è certo ormai che la Germania finanziò pesantemente il partito bolshevico per la propaganda e l'attività rivoluzionaria con più di 11 milioni di marchi tra febbraio e novembre 1917. Si capisce che tutto il mondo guardia quel treno, che è un capolavoro diplomatico, un meccanismo drammaturgico, un paradosso politico, addirittura una sovrastruttura ideologica e insieme un'arma di guerra sofisticata che attraversa le linee e i paesi in conflitto, aggirando il fronte per trasportare in patria la rivoluzione sui vagoni dell'impero nemico. Seguono la corsa gli inglesi attraverso Lord Howard, ambasciatore a Stoccolma, il Kaiser nel quartier generale di Pless, il colonnello Nikitin, capo del controspionaggio russo, che chiede al comandante della regione di Pietroburgo di fermare il treno piombato alla frontiera per non far tornare Lenin nella capitale. Ma Peter, mentre il treno il 12 aprile arriva a Sassins e Lenin sale col suo Queen Victoria, al traghetto che lo porterà a Trelleborg, da dove raggiungerà Malmo a Stoccolma, a Peter, nessuno è in grado di decidere. Il governo zarista di Golissin si è dissolto nel buio una notte, quando è mancata improvvisamente la luce a Palazzo Marinski e i ministri se ne sono andati in fretta, pochi minuti prima che la sala del Consiglio venisse assaltata e saccheggiata. Poco per volta il governo finirà gli arresti, proprio mentre arriva a dichiarare fideltà alla rivoluzione la guardia cosacca dello zar, già con le coccarde rosse sui cavalli. Sembra quasi che la Russia stia aprendo un barco al treno di Lenin, che adesso, dopo il saluto del sindaco di Stoccolma e dopo che Ilice si è comprato due paio di pantaloni e delle scarpe nuove, dalla Svezia corre verso la Finlandia. A Torrio Lenin passa in slitta il fiume ghiacciato per salire sull'ultimo convoglio, attraverso la Finlandia e poi la Russia. È la domenica di Pasco quando telegrafa la sorella che sta per arrivare. Il giorno di festa, in cui il governo provvisorio decide di distribuire a Peter e Mosca razioni speciali di burro, latte, farina, formaggio, anche se nel pane nero, cotto troppo in fretta, si continuano a trovare fili di paglia. La città che aspetta Ilice comincia a vedere disfarsi la sua bellezza. C'è l'ordine di tenere i portoni spalancati, ma molti negozi sono sbarrati, le insegne diverte, i vetri rotti. Mentre il treno sta divorando gli ultimi chilometri, Pietroburgo demolisce ovunque le insegne dello zar, sfregia le statue dei Romanov, restituisce le decorazioni imperiali, mentre arriva la notizia dello sfondamento tedesco sul fronte a Stokhod con 25.000 prigionieri. Ecco il buio profondo della Russia che il treno di Lenin taglia coi suoi tre fari entrando a Pietrogrado. Il rumore dei freni faticò a farsi spazio tra il fumo della ciminiera e la musica della Marsigliese che risaliva al marciapiede della Finskivagzala, la stazione di Finlandia. Arrivava a folate in piazza tra la folla. Si infilava anche sul treno dove erano saliti in tre alle undici di sera. Un gruppo di operai teneva fatica uno spazio sgombro davanti alla porta del quinto vagone, socchiusa. Mentre la musica finiva il guardia marina Maximov vide la porta aprirsi e ordinò fuori da ogni programma di presentare le armi. Quando apparve in cima ai tre gradini Lenin aveva 47 anni, un capotto grigio di lana, il berretto con la visiera d'operaio al posto del cappello borghese di feltro con cui era partito da Zurigo per attraversare sette giorni e sette notti, cinque paesi, una guerra e ritornare in patria, ricongiungendo la rivoluzione al suo destino. Abbozzò un saluto militare davanti al picchetto d'onore, poi si tolse cappello, preso un mazzo di fiori da Alexandra Kollontai e la tessera del partito bolshevico dagli operai di Viborg. Tra le bandiere e i canti lo portano nella sala d'onore dello zar dove l'imperatore riceveva gli ospiti stranieri. Qui lo aspetta il presidente del Soviet, Nicolai Schezze. Bentornato compagno Lenin. Oggi il nostro compito fondamentale è la difesa della rivoluzione. C'è bisogno non di divisioni ma di serrare i ranghi. Speriamo che tu condividerai questo obiettivo con noi. Lenin gli volta subito la schiena e parla alla folla ribaltando il discorso. Marinai, operai, soldati, voi siete l'avanguardia dell'esercito proletario mondiale. L'aurora della rivoluzione socialista mondiale è già spuntata. L'intera costruzione del capitalismo europeo può crollare, può crollare in qualsiasi momento. Viva la rivoluzione socialista mondiale. Sulla piazza gremita, sotto le sciabolate di un proiettore, Vladimir Ilic prova a salire sul cofono di un'auto, poi viene issato sulla torretta di un blindato e ripete le stesse parole. Tra gli applausi il blindato lo porta al comitato centrale. Nadia lo segue in auto. Sapendo che era la notte del lunedì di Pasqua, il 3 aprile nel calendario russo, in treno aveva chiesto a Lenin se avrebbero mai trovato una carrozza alla stazione. Adesso vede che il mondo ha fatto un giro. La carrozza di Lenin stanotte è un carro armato. Ilic prima deve affacciarsi alla finestra del comitato centrale, nella palazzina bianca che Nicolai II da giovane aveva regalato alla ballerina Matilde Kshishinskaya, suo amante, e dove bussava la sera presentandosi come il conte Volkov. Poi, nella cena con i capi del partito, per la prima volta propone quel che dirà il giorno dopo a Palazzo Tauride nelle tesi d'aprile. Fine della guerra, rottura del governo, confisca delle terre, nazionalizzazione delle banche e Repubblica dei Soviet per realizzare immediatamente la rivoluzione socialista. Torno a casa scortato, a tardanotte, in via Scirocava 52, dove la sorella Anna abitava col marito Marc, l'altra sorella Maria e il figlio adottivo Gora, che gli fece trovare sul cuscino la scritta Proletari di tutto il mondo, unitevi. Da qui, da questa casa, prenderà la rincorsa per lo strappo definitivo dell'ottobre. Sono andato a vedere la sua scrivania, quei libri di Marx, la scacchiera in fondo al soggiorno, con un meccanismo segreto a scatto per nascondere le carte bolsheviche. Lo scacco finale della Russia era questione di mesi. Lo preparava qui, tra riunioni, perquisizioni, fughe, allarmi, che arrivavano a questo telefono appeso al muro nel corridoio, che porta ancora al numero dove un secolo fa si poteva chiamare la rivoluzione, 24-643. Poco lontano, la monarchia dei Romanov si esauriva in un appartamento aristocratico di via Miglioni, al numero 12. Qui, in un incontro con la Duma, nella casa della principessa Putiatin, il granduca Mikhail, spaventato, rinunciava alla corona che il fratello gli aveva appena trasmesso, invitando tutti i cittadini, per la prima volta non più sudditi, tutti i cittadini della Russia, a sottomettersi al governo provvisorio, invocando sulla patria la benedizione del Signore. Con due rinunce finiva un regno. Per la storia e per la Russia, l'ultimo zar doveva dunque restare Nicolai II. Chiuso nel vagone dell'abdicazione, lui aveva sentito il treno con le insegne regali muoversi lentamente finalmente, trascinando via il destino compiuto dell'imperatore. Correndo sui binari che profanavano la distesa di neve per tornare a Moghilyov, dal gran quartiere generale e soprattutto dall'imperatrice madre, in realtà verso l'incognito e poi nel precipizio del massacro, Nicolai ora dormiva a lungo, dopo aver letto un libro su Giulio Cesare. Come ha scritto Vasile Rozano nell'Apocalisse del nostro tempo, si era così sbriciolato un mondo. L'impero si è letteralmente disintegrato un giorno feriale, un mercoledì qualunque. Dio ha sputato e ha spento la candela. Grazie. Grazie. Grazie.